allora giorno noi oggi siamo marco dove siamo coscolano moderno questa storia di instagram allora siamo qui sono i mercatini guarda così si può dire abbiamo appena finito di far collation e adesso si va a lavorare perché io ho lasciato lì il banco in una qualche maniera ho lasciato i mercatini e c'è un banco di fimo bellissimo ma poi ci sono i miei tipi simpatici dite che vi mando io e vi fanno lo sconto ma questo non è spam è spamissimo è così bella amore c'è uno con gli occhiali che è troppo simpatico va bene va andiamo a lavorare va allora eccoci arrivati al banco vedi come l'ho lasciato non è in vendita il banco sono già tutti addobbati tranne noi ma marcolino marco ma cosa dici è arrivo siamo qui noi siamo gli ultimi i primi perché noi stasera andiamo via invece loro rimangono perché fanno anche domani questa è la via adesso sono seduta dopo magari mi alzo e ti mando un altro video perché abbiamo appena finito di fare il banco siamo morti di là c'è il lago e mamma ci sono un sacco di persone speriamo ok guarda che meraviglia il lago di garda oggi è una bellissima giornata e wow noi siamo piazzati eccoci la bello 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 veramente bello sto posto sì ma che meraviglia ci piace ci piace cioè qua c'è il mondo veramente se la stanno spassando se la stanno spassando guarda io non ho mai visto un lago così affollato po da rimini di garda boh non è che si capisce tanto cioè va beh incredibile va beh allora buongiorno e benvenuti in questo nuovo video allora io oggi non volevo fare il vlog però mi ci vedo costretta a farlo cioè guarda qui che cosa c'è qui oggi non potevo non immortalarlo allora ce la fai non potevo non farvelo vedere dette un po' che parole questa è il lago di garda come si presenta oggi oggi è non mi ricordo più lento vabbè sono sveglia dalle 5 capitemi comunque oggi è sabato boh io non ho mai visto un lago così affollato raga veramente non l'ho mai visto sono quasi le 6 di pomeriggio e niente questa è la situation qua c'è un bordello di gente dove siamo noi col mercatino non dico che non c'è nessuno ma quasi c'è capito come siamo messi qua qua c'è l'inverosimile boh mentre di là dove siamo noi è molto non è così affollato ecco certo loro sono qua per divertirsi per bagnarsi chiaro noi siamo qua per lavorare ecco loro sono proprio in vacanza che bello ma che bello il lago di garda cioè non pensavo mai qua siamo a tuscolano moderno non so se ve l'ho detto cioè veramente bellissimo mi fa venire voglia pure a me di tuffarmi devo dire la verità effettivamente il favorire veramente voglia di tuffarmi non fa caldissimo poi il caldo giusto di là si vede i montagni bello 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 e di là laggiù ci siamo noi col mercatino io sono in fondo l'ultima il mercatino era di due giorni oggi e domani mentre io farò solo oggi anche perché anche domani che siamo fino alle 11 sia stasera che domani allora siccome poi domani alle 11 ora che arrivi a casa un'ora e mezza di macchina e tutto ride a casa luna ora che smonti e tutto marco poi si alzare presto per andare al lavoro abbiamo detto facciamo solo il sabato eccoci di qua c'è di qua cominciano il mercatino ed è un po più spinto ecco ma speriamo in serata infatti un serale apposta però ora che bello non sai che non c'è un non so che cavolo di giorno è oggi ma se può che giorno è oggi oddio sabato e finali gas e poi aspetta che chiedo a chi chiedo cioè guarda di qua non c'è nessuno ragazzi cioè non è che vi racconto palle e di la avete visto anche voi c'era il mondo non lo so io boh di qua c'è guarda che casermone vabbè le ville che ci sono qua neanche ve lo sto a dire qua c'è come potete vedere il nulla sono tutti laggiù in fondo interato aspetteremo che che cominci la movida di toscolano moderno cosa ti devo dire comincerà prima o poi speriamo va bene ragazze dopo sono andato a vedere il calendario perché non mi ricordavo proprio comunque l'amore mio laggi in fondo noi siamo gli ultimi appunto perché stasera non restiamo gli altri miei ci restano tutti e per questo ci ha messo in fondo così siamo più veloci e scattanti andare via c'è ma sono stati vedi quanto è bello sto lago c'è io non si riesce a capire quasi un mare quasi un mare per quanto è bello ci credo che sono tutti a mollo capito vabbè ciao amore vuoi salutare ciao youtube ciao youtube allora marcolino che ore sono mi hai dato un'idea 7 meno 10 se la metto qua riesci a inciampare la batteria come no non riesce per anche riuscirci ma così su youtube lo sai ma che sta mettendo le luci perché ci stiamo preparando per la serata la lunga notte scuola ma io vi dovete andare a cosa ragazzi siamo eh cescolano materno cescolano materno niente ragazzi siamo ancora qua e siamo ancora qua eh già ciao ragazzi dopo allora io sono andata in bagno ogni tanto scappa sta aggiungendo la sera che bello che bello se quante volte lo ha detto no rientriamo alla base perché adesso comincia il movimento o no speriamo 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 che sono già morta eh che dalle 5 comincia a sentirsi però dai il posto è bello mi fa a temperatura ideale e adesso niente aspettiamo aspettiamo ma che bello meravigliosa piace un sacco questo toscolano moderno toscolano moderno va bene raga dopo colino siamo pronti per la serata get down get down ma cos'è get down allora io ho notato noi abbiamo picciato le luci e siamo belli illuminati no cioè se vede che siamo illuminati mi sembra di sì che se vede che siamo i nuovi bracciali parliamone io sto parlando di cose serie stavo dicendo che io sono illuminata no vedi che sono illuminata siamo illuminati qua se la mia vicina è illuminata l'altra vicino c'è tutti gli altri sospenti non capisco non hanno voglia di lavorare a parte che non c'è nessuno come potete vedere guarda che bellino mercatino mercatino cosa mi è uscito mercatino niente raga io non vedo l'ora delle 11 per sbaraccare andare a casa questa è la realtà dei fatti niente niente il posto è bello la temperatura anche però vediamo non ci posso credere sta arrivando cos'è sta arrivando Marco? le principesse la sfilata delle principesse oh mio dio ma pensa a te ecco adesso mi daranno il copyright e vabbè fanno i gutti cambierò la musichetta che fortuna abbiamo peccato pure la sfilata ciao ciao ma non ci sono una macchina non mi sono messa in un posto buono ma poi di notti le fanno questo non lo fanno di giorno di notti non si vede niente unnaggia a loro ebbè è già finita la sfilata è già finita la sfilata oddio ma erano le quattro in croce marco è già finita vabbè cosa vuole gli 80 personaggi è tipo il carro di il carro di voi questo il carro di più tranquillo tipo il carro della disney passiamo a disney siamo a coscolano disney vediamo che carini ciao ecco questo è di pace anche anna vedi che non l'avevo vista c'è un po' di gente eh mary poppy eh certo vabbè dai ci siamo beccati pure la sfilata che vi devo dire io si ma fra un po' smontiamo fra un po' ce ne andiamo ahahahahah allora ce l'abbiamo fatta la giornata è finita siamo contenti stiamo per partire sono le 11 e mezza abbiamo appena finito di caricare la macchia aspetta che abbasso che non si respira ma il tuo navigatore è stato messo? si sta sta che cosa? sta caricando eh va bene ragazzi io spero come sempre che il video vi sia piaciuto di avervi fatto un po' di compagnia questo è il lago di sera di notte guarda tutte le lucine laggiù niente raga siamo cotti 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 io non vedo l'ora di arrivare a casa e abbiamo ancora un'ora e mezza di strada a posto va bene alla prossima ciao ciao ciao